I carabinieri della locale stazione del nucleo ispettorato di Reggio Calabria hanno denunciato 120 persone per truffa aggravata per indebita percezione del reddito di cittadinanza a seguito di false dichiarazioni o omissioni riscontrate. Nello specifico le indagini poste in essere dai militari dell'arma hanno permesso, attraverso una tentatività di analisi documentale in relazione alle innumerevoli istanze presentate e nel riscontro anche un esame incrociato tra le verifiche fatte sul territorio e gli accertamenti info-investigativi al fine di verificare numerose irregolarità da parte dei soggetti denunciati durante il periodo compreso tra il marzo del 2019 e il febbraio del 2021 nelle procedure di attestazione e l'assenza dei requisiti previsti. Insomma, le difformità riscontrate hanno impedito l'elargizione dei sussidi a soggetti non aventi diritto per un importo complessivo, pensate un po', di 1 milione e 300 mila euro. Così gli esiti dell'attività investigativa dei carabinieri sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e all'Inps al fine dell'interruzione dell'elargizione del sussidio nei riguardi dei soggetti interessati ed anche ovviamente al recupero delle somme indebitamente percepite. Un'attenzione particolare rivolta a riscontrare le discresie in ordine all'indebita richiesta del beneficio che ora, ancora una volta, ha riaffermato la necessità dell'incessante azione di controllo da parte delle istituzioni sulla percezione dei sussidi pubblici, soprattutto a favore di quella parte di popolazione più debole e realmente bisognevole di aiuti che inevitabilmente subisce conseguenziali derive e compromessi di natura illecita.